Terza corsa, premio Fantasiland, la prova principale del convegno di oggi, Miglio per femmine di 4 anni, 6 al via, Varna del Ronco, Gasparello Verde, Venusferma, Antonio Di Nardo, Viola del Circeo, Roberto Muscolini, Vesna René Legati, Visa S, Alessandro Gocciadoro e Viola Griff, Manuele Matteini. Parte piano Varna del Ronco e rinuncia oggi al lancio Viola Griff, così che è Venusferm che all'interno rimane in vantaggio su Visa S, poi Viola del Circeo, ancora Vesna, Varna del Ronco e Viola Griff che ha rinunciato al lancio per correre di rimessa, Visa S che va decisa su Venusferm, vediamo se ci sarà il via libera da parte di Antonio Di Nardo oppure si opporrà alla favorita allieva di Alessandro Gocciadoro che probabilmente dopo la curva avrà il via libera e così sfila in testa Visa S nei confronti di Venusferm, Viola del Circeo, Vesna, Varna del Ronco e Viola Griff che si ritrovano in lunga fila indiana. Le sei protagoniste di questo centrale, 600 iniziali in un veloce 43 e 7 per Visa S che non lesi in andatura dopo aver rilevato il comando da Venusferm, la quale precede a sua volta Viola del Circeo, Vesna, Varna del Ronco e Viola Griff. Metà gara in 58 e 9 da parte di Visa S che allunga e prende vantaggio da Venusferm, accenna a muovere dalla quarta posizione Vesna che va al Sarchi di Viola del Circeo, quest'ultima prova ad anticiparne le mosse. Si rifà sotto anche Venusferm che riavvicina Visa S poco prima dell'imbocco della curva finale, si continua a viaggiare forte tanto che Visa S giunge ai 1.200 in 1.27.3. All'argo Viola del Circeo dopo aver anticipato Vesna, sopravanza Venusferm e prova ad inseguire la battistrada che però riallunga entrando in retta. Visa S in vantaggio su Viola del Circeo, poi Vesna che prova a riproporsi, Venusferm, Viola Griff in difficile recupero dalla retroguardia ma Visa S ha staccato le avversarie. Visa S davanti a Viola del Circeo, Vesna e Viola Griff nel finale tutto senza problemi per Visa S davanti a Viola del Circeo mentre Vesna respinge Viola Griff per il terzo posto. 1.55.8 sul mio cronometro che significa media di intorno all'1.12.5 per Visa S e Alex Gocciadoro per questa figlia di Varenne i colori dell'azienda agricola Mariano. Al posto d'onore un'ottima Viola del Circeo davanti a Vesna e Viola Griff. Grazie a tutti.